Musica Aveva un tasso alcolemico nel sangue quattro volte il limite consentito la giovane soldatessa americana che sabato notte ha investito e ucciso un quindicenne a Porcia tanti mazzi di fiori, messaggi e lumini sul luogo dell'incidente. Non è la poca luce la causa di questa tragedia. Il sindaco di Porcia ribatte alle accuse per la decisione di ridurre l'illuminazione pubblica a causa caro energia. Con il comandante della base USAF ha avviato un confronto per agevolare l'integrazione dei giovani americani che lavorano ad Aviano. Alle 20 la chiusura dei termini per la presentazione delle liste per le elezioni politiche del 25 settembre. Gli elettori del Friuli Venezia Giulia si troveranno davanti dai 13 e 18 simboli, poche sorprese dopo le anticipazioni dei giorni scorsi. Al via Udine i lavori di asfaltatura dei sottopassi di Piazzale Cella. L'intervento durerà qualche giorno con inevitabili deviazioni e rallentamenti alla circolazione. Il punto nel Tg in diretta dal cantiere. Buonasera a tutti i telespettatori di Udinese TV. In apertura lo avete sentito nei nostri titoli. Torniamo sulla tragedia di sabato notte a Porcia dove un ragazzo di 15 anni è stato investito, travolto e ucciso da un'automobilista, una soldatessa americana di 20 anni che è risultata positiva all'alcol test. Aveva un livello di alcol nel sangue quattro volte il limite consentito dalla legge. Allora andiamo a sentire il primo servizio di Giulia Soligoni. Si aggrava la posizione della soldatessa ventenne in servizio alla base USAF che nella notte tra sabato e domenica ha investito e ucciso il 15enne Giovanni Zanier lungo la pista ciclabile di Porcia. L'esito dell'alcol test ha infatti dato esito positivo con un tasso alcolemico nel sangue quattro volte oltre il limite consentito. Questa mattina la procura di Pordenone ha chiesto al GIP del locale tribunale la convalida dell'arresto oltre all'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Udienza di convalida che sarà fissata nelle prossime ore. Nel frattempo il luogo dove due notti fa il 15enne ha perso la vita sta diventando un luogo di affetto e preoccupazione per quanto successo. Mazze di fiori, messaggi, lumini e da ieri tante persone tra parenti e amici della vittima che si sono fermate per qualche minuto. Sul posto anche il sindaco Marco Sartini che ha invitato a evitare polemiche sul fatto che l'amministrazione da lui guidata abbia deciso di spegnere l'illuminazione pubblica a partire dalle due di notte per consentire un risparmio energetico. A esprimere il proprio cordoglio e vicinanza ai familiari della giovane vittima e alla comunità italiana anche il comandante della base USAF. In marito alle modalità di giurisdizione sull'inchiesta della soldatessa è intervenuto il procuratore di Pordenone Raffaele Tito che ha spiegato come al momento dell'esercizio dell'azione penale il ministro della giustizia italiano può, a discrezione o su richiesta della base americana, attivare il difetto di giurisdizione e consentire così all'indagato statunitense di essere processato nel proprio paese. Un'opzione in capo al ministro, ha continuato il procuratore, operative in base ai trattati internazionali sulla giurisdizione dei militari nato in Europa. E come abbiamo sentito e come abbiamo raccontato anche nella giornata di ieri sul luogo in cui è avvenuto l'incidente, nel momento in cui è avvenuto l'incidente l'illuminazione pubblica era spenta per una decisione del comune di Porcia che ha fatto come hanno fatto anche tanti altri comuni, ha deciso di spegnere l'illuminazione pubblica nelle ore notturne in alcune strade per far fronte al caro energia. Questa decisione ha scatenato molte polemiche, ha acceso un dibattito sul quale oggi è intervenuto lo stesso sindaco Sartini che ha sottolineato come la causa di questa tragedia non sia proprio nella mancanza di illuminazione pubblica nel luogo nel momento in cui è avvenuto l'incidente. Questa mattina il sindaco Sartini ha incontrato anche il comandante della base USAF di Aviano con il quale ha avviato un dialogo per cercare di mettere in campo una serie di azioni che facilitino l'integrazione dei giovani militari che lavorano nella base USAF di Aviano con il territorio e fermare in qualche modo le scorribande notturne dei militari in libera uscita. Sentiamo il servizio di Francesco Colussi. L'incidente mortale accaduto nella notte tra sabato e domenica a Sant'Antonio di Porcia in cui ha perso la vita un ragazzo di soli 15 anni di Pordenone ha scatenato una serie di reazioni e di accuse all'amministrazione comunale di Porcia in particolare perché la rotonda dove c'è stato il tragico impatto tra l'auto guidata dalla soldatessa americana di 20 anni e Giovanni Zannier non era illuminata così come molte altre strade del comune per risparmiare a causa del caro energia. Quelle misure di contenimento le abbiamo prese ad aprile in un momento nel quale anche lo Stato aveva dato delle direttive, delle raccomandazioni sul contenimento della spesa e quindi abbiamo messo in atto un provvedimento che dalle 2 del mattino praticamente spegnevamo le luci pubbliche per contenere una spesa. Vi do un dato, Porcia abbiamo una previsione di aumento di 450.000 euro e contenendo la pubblica illuminazione ne risparmieremo 60.000. Credo che i dati usciti sul tasso alcolemico della donna al volante ci facciano capire che avere il quadruplo del consentito di alcol sia stato questo l'elemento che ha creato l'incidente e non la luce pubblica perché voglio ricordare ancora una volta che quando ci mettiamo al volante noi siamo i primi responsabili di quello che facciamo. Ieri ho subito chiamato il comando della base USAF e oggi è arrivato qui in municipio a Porcia il generale comandante Clark che si è reso disponibile con una disponibilità veramente importante e veloce. Abbiamo parlato del problema, ha unito il suo cordoglio al mio e dell'amministrazione che rappresento e anche di tanti sindaci che mi hanno chiamato per esprimere vicinanza alla famiglia che ha subito questa grave perdita. Insieme abbiamo concordato di portare avanti nel futuro delle politiche in modo da integrare meglio i ragazzi che arrivano, americani, rispetto al territorio locale. Sul tema è intervenuta anche la consigliera comunale e regionale di Porcia del Partito Democratico Chiara Dajau che non punta al dito contro la scarsa illuminazione dell'incrocio tra Via Lazio e Viero Veredo. Mi sembra che anche dalle prime informazioni che trapelano dalle indagini si possa assolutamente dire che sono i comportamenti individuali rispetto del codice della strada a quelli che mettono in sicurezza tutti i cittadini, ma questo non toglie che le amministrazioni debbano fare la loro parte. La riduzione dell'illuminazione per contrarre i costi energetici era una misura necessaria che non ha adottato solo Porcia. È chiaro che nel farla ci auguriamo che siano stati contemperati anche i rischi a cui si andava incontro e che non si sia valutata la pericolosità delle strade antemisura, ma anche con misura in atto. Più di mille persone controllate in un mese a Lignano. E' questo un primo bilancio dell'attività svolta dai carabinieri, ma anche dalle altre forze dell'ordine negli ultimi mesi nella località valneare friulana dove, come sappiamo, durante l'estate l'attività di controllo da parte delle forze dell'ordine viene sensibilmente potenziata. Allora andiamo a sentire i numeri di questo primo bilancio nel servizio di Monica Nardini. Oltre 250 servizi di pattuglia con mille veicoli sottoposti a controllo e più di 2000 persone identificate. Sono alcuni dei principali dati caratterizzanti l'ultimo mese di attività a Lignano-Sabbiadoro della locale stazione dei carabinieri, nell'ambito dei servizi svolti insieme ad altre forze di polizia. La stazione a giugno è stata rinforzata con militari inviati dal comando provinciale di Udine, ai quali si sono aggiunti a luglio quegli assegnati dal comando generale dell'arma. Rilevate 43 violazioni al codice della strada. Tra queste sono stati 11 gli accertamenti per guida in stato di ebrezza alcolica e 4 per guida sotto l'effetto di stupefacenti. In questi casi i conducenti sono stati deferiti in stato di libertà all'autorità giudiziaria. Complessivamente sono stati decurtati 190 punti patente. Sottoposti a controllo, inoltre, informano ancora i carabinieri, 33 esercizi pubblici, 9 le violazioni contestate in questo caso, 5 di rilevanza penale e 4 di carattere amministrativo. Significativa la chiusura di due centri benessere disposta dal comune di Lignano-Sabbiadoro dopo i controlli effettuati la scorsa settimana dal nucleo carabinieri antisopisticazione e sanità di Udine. Ai titolari è stata contestata la mancata presentazione della segnalazione certificata di inizio attività per la vendita al dettaglio di genere alimentari all'interno. Sempre la scorsa settimana i carabinieri della locale stazione hanno deferito in stato di libertà una coppia di giovani padovani accusati di aver portato via da un esercizio commerciale uno zaino contenente denaro contante e un iPad di proprietà dell'esercente. I militari hanno infine arrestato un 33enne straniero già noto alle forze dell'ordine che, espulso dal territorio nazionale inizio giugno, era rientrato illegalmente in Italia. E con la cronaca ci spostiamo da Lignano a Jesolo, dove nel primo pomeriggio di oggi, attorno alle 13.30, c'è stato un grave incidente stradale tra un bus dell'Atvo e una macchina, una lancia Y. I due mezzi si sono scontrati frontalmente e il pullman ha sfondato la recinzione di un'abitazione. Ci sono cinque persone ferite, tre delle quali in modo più serio, due donne di 22 anni estratte dall'auto dai vigili del fuoco e trasportate in ospedale in codice rosso e l'autista del bus che ha riportato una ferita alla testa. Le sue condizioni sembrano meno preoccupanti. Qualche ferita, qualche contusione più lieve per i passeggeri del mezzo pubblico. Sul posto dell'incidente due elicotteri e tre ambulanze. Un aereo della compagnia civile di Ita Airways, scortato da due caccia, ha tirato invece oggi l'attenzione di tantissime persone residenti nella zona tra San Daniele e Coseano Spilimbergo. Si è pensato ad un dirottamento, ma in realtà poi gli uffici stampa delle frecce tricolore e anche dell'Aeronautica Nazionale hanno fatto sapere che si trattava di una semplice esercitazione. Questa e le altre notizie di cronaca della giornata di oggi nelle Flash News, curate da Giulia Soligon. Si tratta di un'attività destrativa pianificata per eventuali future collaborazioni. Il volo durato più di un'ora di un Airbus Ita Airways partito da Roma e scortato da due velivoli MB339 utilizzati dalle frecce tricolori. La presenza dei tre aerei che hanno sorvolato San Daniele, Coseano e Flaibano non è passata inosservata tra i cittadini, tanto da destare preoccupazione per i frequenti giri a 360 gradi effettuati anche nell'area di Spilimbergo o Fagagna. Alcuni di loro infatti si sono rivolte alle autorità competenti per sapere cosa stesse succedendo. Un 25 anni di Tolmezzo è stato denunciato per porto abusivo di coltello. Il giovane inoltre è stato segnalato alla prefettura per detenzione finalizzata al consumo di sostanze stupefacenti. Fermato con un controllo in autostazione dalla polizia locale della comunità di Montagna della Carnia, nel suo zainetto sono state ritrovate varie pastiglie di medicinali sfusi, contenenti benzo di azepina e il principio attivo della buprenorfina, sostanza opioide chimica di laboratorio. Il giovane non è stato in grado di esibire una documentazione medica che giustificasse il possesso di tali sostanze. Nello zainetto il giovane aveva celato anche un coltello. La stazione di forni di sopra del soccorso alpino e i soccorritori della Guardia di Finanza sono intervenuti questo pomeriggio per soccorrere due escursionisti stranieri, a chiedere aiuto un uomo e una donna di nazionalità spagnola, colti dal panico dopo aver deviato dalla traccia principale del sentiero, che sale dal rifugio Flybump a Chierini verso la forcella dell'Inferno. Un sentiero che, a seguito anche dei recenti nubi fragi, presenta dei punti in parte di Lavati e che potrebbe aver portato i due a sbagliare traccia. Decollato da Tolmezzo, l'elicottero della protezione civile ha individuato i due escursionisti per poi imbarcarli e portarli a valle insieme al cane che avevano con sé. Attivato le 5 e mezza di questa mattina l'elicottero Dolomiti Emergency per un alpinista volato sullo zoccolo della via Soleder, Lettenbauer sul Civetta, L'equipaggio si è portato sulla verticale al luogo dell'incidente, dove si trovava il 29enne di Azzanodecimo di Pordenone, caduto tra le rocce sul primo tiro per una quindicina di metri, riportando un sospetto trauma cranico e al braccio. Recuperato con un berricello di 40 metri, l'alpinista è stato elitrasportato all'ospedale di Belluno, mentre il compagno è rientrato assieme a un'altra cordata che si trovava sul posto. Tamponamento tra tre auto verso le 11.30 lungo la regionale 56 a Manzano. Da quanto si apprende dalle prime informazioni, le tre auto stavano proseguendo in direzione Udine quando sono entrate in collisione. Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze per le persone coinvolte. Sul posto gli operatori sanitari del 118 e i vigili del fuoco di Udine, che hanno messo in sicurezza i veicoli, forti rallentamenti alla viabilità lungo la regionale. Sulle cause dell'incidente sta ora indagando la polizia locale. Sempre per la cronaca stava cercando di imbarcarsi su un volo diretto a Londra Stenstead quando giovedì scorso un 31enne rumeno è stato fermato dalla polizia di frontiera all'aeroporto di Ronchi dei Legionari. L'uomo è risultato essere destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Torino per reati connessi all'indebito utilizzo, falsificazione e alterazione di carte di credito commessi nel 2013 con una pena residua da espiare di un anno e sette mesi di reclusione. L'uomo è stato portato in carcere a Gorizia. La politica adesso, chiusi i giochi per le elezioni politiche del prossimo settembre in Friuli Venezia Giulia, poche sorprese dopo la seconda giornata di depositi delle liste al netto dei controlli sulle firme raccolte. Gli elettori troveranno sulle schede per Camera e Senato dai 13 ai 18 simboli. Vediamo. La sfida Luca Ciriani, Onsel, Patuanelli al Senato quella tra Gava, Favret e Sud alla Camera per Pordenone e Alto Friuli tra Rizzetto e Celotti a Udine, tra Panizzut e Conti a Trieste e Gorizia e poi ancora la corsa ai seggi del proporzionale tra i partiti più quotati a livello di sondaggi da Fratelli d'Italia con i papabili Matteoni, Tubetti e Loperfido il Partito Democratico con Serracchiani, Roiz e Sciaurli la Lega con Dreosto e Pizzimenti Forza Italia con Savino e Dalmas Azione Italia Viva con Rosato e Turello Il deposito delle liste per le elezioni politiche del 25 settembre prossimo si sta ultimando e le sorprese nell'ultima giornata in corte d'appello a Trieste sono state poche dopo le anticipazioni dei giorni scorsi complessivamente gli elettori del Friuli Venezia Giulia sulle schede per il rinnovo di Palazzo Madama e Montecitorio si troveranno davanti dai 13 ai 18 simboli salvo le verifiche che si concluderanno nei prossimi giorni per le firme a sostegno delle candidature che i partiti non esentati dalla raccolta hanno dovuto mettere assieme dopo le presentazioni di ieri di Movimento 5 Stelle, Unione Popolare Vita, Italia Sovrana e Popolare Gile Arancioni per l'Italia con Paragone Pensiero e Azione e Impegno Civico oggi è stata la volta di Noi Moderati Forza Italia, Mastella Noi di Centro Fratelli d'Italia, Forza Nuova, Destra Unite Azione Italia Viva, Più Europa, Partito Democratico e Lega tra le curiosità all'interno delle liste oltre agli uscenti che tenteranno il bis o alcuni visitors paracadutati dalle segreterie nazionali vedi lupi molti i nomi del passato che rispuntano chiamati a rimpinguare le caselle il più delle volte per onor di firma l'ex assessore regionale alla sanità a Telesca, alla già segretaria del PD Antonella Grim passando per l'ex sindaco di Tolmezzo Francesco Brollo e l'ex collega di Dignano Turridano infine con l'ex onorevole Serena Pellegrino e tra i volti noti che si rivedono in politica dopo anni c'è anche quello dell'ex ministro Giulio Tremonti che ha annunciato la sua candidatura per Fratelli d'Italia dove si schierano anche l'ex PM Carlo Nordio e l'ex ministro degli esteri Giulio Terzi di Sant'Agata il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte prima apre ad un governo con il PD ma poi fa retromarcia sentiamo è scattata la corsa al deposito delle liste in vista della tornata elettorale del 25 settembre nelle corti di appello ancora per poche ore partiti e movimenti potranno depositare i documenti con i nomi dei candidati alle prossime politiche nella prima giornata a farla da padrona le formazioni minori e soprattutto i partiti non presenti attualmente in Parlamento a Roma ad arrivare per prima è stata Italexit di Gianluigi Paragone che assicura di avere raccolto tutte le firme necessarie a Milano invece i primissimi ad arrivare sono stati Gilea Arancioni il movimento che fa capo all'ex generale Antonio Pappalardo che erano davanti alla sede della corte d'appello già alle 4 e mezza del mattino a presentarsi in prima giornata sempre alle prime ore del mattino anche Unione Popolare la lista di Luigi De Magistris l'ex sindaco di Napoli sarà candidato come capolista al plurinominale sia nel Lazio che in Calabria tra le liste minori che hanno depositato il simbolo al Viminale e che hanno portato i propri schieramenti in Lombardia c'è anche Free un gruppo di comitati civici guidato da Marco Lusetti ex vice segretario della Lega Nord in Emilia-Romagna ora candidato alla Camera in Lombardia per il nuovo movimento tutti i partiti non presenti in Parlamento hanno dovuto raccogliere le firme ora al vaglio delle corti di appello il quantum delle sottoscrizioni è legato al numero di collegi plurinominali dunque sarebbero necessarie circa 73.500 firme ma in caso di scioglimento anticipato della Camera dei Deputati il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà ovvero 750 firme per ogni collegio plurinominale è necessario quindi raccogliere 36.750 firme per la Camera e 19.500 per il Senato Altri numeri ora quelli dell'epidemia di coronavirus 10.418 i nuovi contagi in tutta Italia su poco meno di 63.200 tamponi il tasso di positività è al 16,5% stabile rispetto a ieri le vittime nell'arco delle 24 ore sono 75 sono 255 i pazienti ricoverati in terapia intensiva 7 in meno i ricoverati covid nelle parti ordinari sono invece 6.516 74 in più gli attualmente positivi scendono ancora siamo attorno ai 767.000 quasi 12.000 in meno rispetto alla giornata di ieri i dati del Friuli Venezia Giulia ci riferiscono di 189 nuovi casi nell'arco delle 24 ore a fronte di poco più di 1.500 tamponi 1.510 con un indice di positività del 12,52% c'è stato anche un decesso mentre risultano stabili i ricoveri in ospedale 4 pazienti covid in terapia intensiva 195 negli altri reparti degli ospedali regionali l'Istituto Superiore di Sanità sta tenendo sotto controllo anche la diffusione di un altro virus quello del West Nile dall'inizio di giugno sono stati confermati in Italia 230 casi di infezione nell'uomo e 13 decessi dei 230 casi rileva l'Istituto Superiore di Sanità 127 si sono manifestati nella forma neuroinvasiva 3 dei quali in Friuli Venezia Giulia 37 sono stati casi identificati in donatori di sangue 63 casi e di febbre la maggior parte in Veneto 1 in Friuli Venezia Giulia e 3 casi sintomatici nello stesso periodo sono stati segnalati anche 3 casi di usutuvirus in donatori di sangue 2 in Friuli Venezia Giulia e 1 in Piemonte sono iniziati oggi i lavori di asfaltatura dei sottopassi di Piazza Lecella a Udine e allora noi ci colleghiamo subito con il cantiere di Piazza Lecella dove si trova Giulia Soligon per fare il punto della situazione sui lavori e anche sui disagi inevitabili alla circolazione perché il traffico ovviamente ne risente visto che ci sono anche alcune deviazioni Giulia, buonasera, a te la linea Sì, buonasera Angela mi trovo qui in Piazzale Cella dove da domani cominceranno i lavori che riguarderanno i sottopassi lavori che perdureranno per 3-4 giorni e che di necessità comporteranno anche delle modifiche alla viabilità noi abbiamo sentito questo pomeriggio il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Loris Michelin allora andiamo a sentire che cosa ci ha detto e poi restituisco la linea allo studio Si tratta del rifacimento della parte dell'asfaltatura dei due sottopassi quello che collega via Pozzuolo e quello che collega via Lumignaco sono due sottopassi dove passa ovviamente il treno sopra la parte delle ferrovie Perché li facciamo? Perché da diversi anni, da tanti anni la polizia locale riscontra parecchie segnaletiche in merito ovvero problematiche di attraversamento perché sono stati, diciamo, fatti tantissimo tempo fa e il manto stradale porta a delle problematiche non da poco Chiaramente sappiamo, essendo a senso unico che creano delle difficoltà nell'attraversare, nel percorrere soprattutto perché qui c'è molto traffico quindi abbiamo pensato di fare una serie di deviazioni sia dalla parte sud, sia dalla parte nord per la parte nord intendiamo piazzare Cella Quanto dureranno i lavori? Dai 3 ai 4 giorni, 2 per parte lavoreranno prevalentemente di sera e anche di notte per creare meno disagi è chiaro che potranno accedere alle vie di via Pozzuolo praticamente e via Lomignaco solamente i residenti che dovranno parcheggiare o vivere insomma con le loro auto o con i loro mezzi invece gli altri dovranno seguire le deviazioni in loco questo intervento completa, l'opera completa che è stata fatta già via Boccaccio l'intersezione con la tazenziale sud che anche quella presentava situazioni di enorme disagio e anche una rotatoria di viale Palmanova in tutto sono 230 mila euro che abbiamo pensato di inserire per migliorare la viabilità E a proposito di altri lavori, di prossimi lavori anche il Palamostre avrà un nuovo volto sarà probabilmente pronto per il 2023? Sì, il Palamostre è un vecchio edificio che si chiama Palamostre perché era negli anni 60 progettato dall'architetto Avong era un luogo di esposizione è lasciato un po' decantare perché da diversi anni una parte del Palamostre, la parte del teatro diciamo non è usufruibile perché? Perché il tetto ha molti problemi piove dentro, non si può sicuramente tenere le opere d'arte e con questa occasione andiamo a rifare la parte strutturale creando anche due ascensori che supporteranno le nuove sale che andremo a predisporre sale che saranno espositive ma quindi dotate di anche la climatizzazione perché sono opere importanti che verranno inserite E parliamo adesso di altri progetti, altri lavori quelli della SIOT per la realizzazione di quattro nuove stazioni di pompaggio del Greggio a Paluzza Cercivento, a San D'Oligo della Valle Arianna del Royale a Cavazzo Carnico questa mattina nella sede della regione a Udine il sindaco di Paluzza Massimo Mentil ha richiamato l'attenzione sul progetto che riguarda in particolare proprio il comune di Paluzza fortemente criticato dall'amministrazione comunale anche da Lega Ambiente sentiamo il sindaco Mentil L'obiettivo del progetto è creare un impianto di cogenerazione con la combustione di gas metano per produrre energia per scaldare poi il petrolio che SIOT trasferisce più oltre confine quindi il problema della contrarietà del comune di Paluzza è che all'interno del centro abitato verrebbero costruite due ciminiere di 16 metri cada uno con un interesse prettamente dell'azienda che non ha nessuna ricaduta sul territorio del comune di Paluzza quindi è un insieme di questioni che ci hanno portato a continuare e a pensare a una contrarietà di base perché comunque alla fine non c'è nessuna ricaduta pubblica non vediamo una pubblica utilità che possa in qualche modo giustificare un intervento di questo tipo che può essere sicuramente un interesse economico finanziario da parte della società proponente che è legittimo però dobbiamo anche tutelare quello che è un eventuale inquinamento acustico, ambientale di emissioni in atmosfera che in questo momento riteniamo non in linea e non conformi con uno sviluppo del territorio e con la tutela della salute pubblica dei cittadini Come procederete dunque ora? In questo momento qui lo diremo anche in conferenza stampa faremo una riflessione su quanto APE che l'Agenzia per l'Energia ci ha fornito con una relazione con i dati che ci ha fornito con lo studio che APE ha approfondito e dopodiché faremo le osservazioni chiederemo un rinvio della conferenza dei servizi primi di settembre e poi vedremo se riusciamo in qualche maniera a tutelare un territorio che di servitù ne ha già tante e questo è una servitù un po' eccessiva e noi siamo in chiusura di questa edizione serale del nostro TG e prima di salutarci andiamo a vedere come sempre gli appuntamenti della nostra serata alle 19.45 il TG News Pordenone poi alle 21.15 come ogni lunedì l'appuntamento è con Udinese Tonight e poi alle 22.30 l'ultima edizione del TG il TG della notte con tutti gli aggiornamenti di cronaca e di sport grazie come sempre per la vostra attenzione vi lascio alle previsioni del tempo e vi invito a rimanere in nostra compagnia buona serata a tutti amici di Udinese TV un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo nella giornata di martedì rinforzo dell'alta pressione sul Friuli Venezia Giulia a garanzia di una giornata stabile ed assolata qualche nuvola di passaggio ma con il basso rischio di precipitazioni temperature stabili o in lieve diminuzione massime che non supereranno i 30 gradi situazione analoga anche per Pordenone Udine con sole protagonista qualche nuvola di passaggio ma senza particolari conseguenze temperature anche qui non oltre i 30 gradi situazione fotocopia anche per Gorizia e Trieste con sole protagonista temperature comprese tra i 27 e i 30 gradi le massime dettagli maggiori come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trevi Meteo grazie a tutti Grazie a tutti.